All'interno dei processi di insegnamento e apprendimento, gli strumenti e gli spazi fisici non sono i soli canali a supportare lo scambio tra i nodi della rete, quindi l'apprendimento. Anche gli strumenti digitali costituiscono un canale efficace. L'introduzione di tali canali, fluidi e multifunzionali, permette di rendere interazioni tra pari e con il docente immediata, rapida e perfettamente integrata con le attività educative. Uno dei temi più affrontati e discussi in ambito didattico è quello delle tecnologie digitali viste come possibili driver di trasformazione e innovazione. Tuttavia, l'introduzione di queste tecnologie produce effetti positivi solo se strettamente collegata ad alcune variabili. Prima di tutto, il coinvolgimento di tutti i nodi della rete all'interno del processo. Inoltre, lo stretto contatto col contesto reale in cui avviene il processo di insegnamento e apprendimento. Solo così, l'introduzione degli strumenti digitali permette di individuare un nuovo senso e nuove connessioni alla rete, che permettono di rafforzare l'impalcatura della rete stessa e supportano lo sviluppo di attività anche con un numero elevato di partecipanti. Ma quali sono allora gli strumenti digitali da integrare per supportare l'utilizzo di metodologie pedagogiche che tendano verso un approccio più aperto, attivo e collaborativo? Prendiamo spunto dall'e-collaboration, la progressiva trasformazione avvenuta in ambito professionale che vede l'introduzione delle tecnologie digitali al fine di supportare processi collaborativi. Re-collaboration è lo stile di chi sfrutta le opportunità offerte dal web per raggiungere obiettivi e risolvere problemi insieme agli altri, se non essi colleghi, amici conoscenti o anche perfetti sconosciuti. Questa definizione pone l'accento sull'utilizzo delle tecnologie digitali per risolvere obiettivi comuni a un gruppo di persone. L'e-collaboration è quindi uno stile che ben si adatta anche ai contesti di insegnamento-apprendimento, dove i nodi della rete puntano a raggiungere obiettivi comuni e risultati di apprendimento attesi anche attraverso gli strumenti digitali. Si apre quindi un panorama di classi attive e e-collaborative che sfruttano i vari canali digitali per attivare all'interno della rete dell'apprendimento vari processi tipo di comunicazioni tra gli attori della rete, produzione e condivisione di contenuti con gli attori della rete, networking tra gli attori della rete e con il mondo esterno, integrazione intelligente di fonti, strumenti e contenuti per lo sviluppo di attività. Gli strumenti a disposizione sono molteplici, mail, forum, ma anche social network generici o specialistici, learning management system. Le scelte da affrontare sono molteplici, ma quali sono i criteri per la scelta dei canali digitali da utilizzare all'interno della rete dell'apprendimento? Dopo aver identificato gli attori della rete, i contenuti da utilizzare, le attività da svolgere, eventualmente le correlazioni col mondo esterno, la scelta dei canali digitali da utilizzare potrebbe risultare scontata o semplicemente aderente alle sole abitudini del docente designer. In realtà dobbiamo tenere in considerazione tutti gli attori coinvolti nella rete, quindi dobbiamo scegliere strumenti che siano familiari a tutti gli attori della rete. Non solo potremmo utilizzare strumenti che siano messi a disposizione, per esempio, dall'istituzione in cui il corso è inserito. In caso volessimo utilizzare strumenti nuovi, potremmo anche farci aiutare nella loro gestione, nello svolgimento delle varie attività da tutti gli attori della rete, siano essi per esempio studenti o esperti tecnici. Ad ogni modo, l'utilizzo di uno strumento digitale, che sia nuovo o già in uso, deve essere accuratamente comunicato a tutti i nodi della rete. Devono essere chiari gli obiettivi, i risultati e tutti i processi utili per svolgere le attività. L'obiettivo da parte del docente designer è sempre lo stesso, progettare accuratamente l'utilizzo dei canali, siano essi fisici o digitali, al fine di permettere di supportare lo scambio e l'interazione all'interno dei nodi della rete, massimizzando il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.